la sorella dice sempre doveva l'unica data che è sparita e che non rispondeva al cellulare è stata perché l'ha fatto un incidente lo pensi se non è attaccato a tutti è un po' di esempio è un po' di ospedale, è un po' di amici e anche un po' di ragazza che la sorella sta sempre a percibata ma si ma si, hai ragione? e lui? e lui? e lui? e lui? e lui? è sparita? andiamo a cercare, è lo scolario, è la nice secondo me si sarà fatto in giro non sa cosa diceva a casa scuola diceva che i campioni non si fanno soltanto in palestra ma anche il tipo di cose che hanno che i campioni non si fanno soltanto non si fanno soltanto non si fanno soltanto non si fanno soltanto non loggio cari Jerry Guarda Gerry Guarda Gerry Guarda Gerry Guarda Gerry